Questa sera ci sentiamo molto bene, abbiamo sia Gianni che Luca e quindi possiamo giocarcela bene, possiamo portare a casa questi tre punti. Spero nella continuità perché la scorsa settimana abbiamo fatto i primi tre punti, non so se è un bene o male, ma anche la squadra è un po' di continuità alle loro parole di squadra però spero che l'entusiasmo della scorsa settimana possa essere fruttuoso con questa partita. Grazie. Grazie a tutti. 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 importantissimo per il gioco che facciamo perché allunga la squadra. Io e lui in appoggio quando ho lui nel reparto giochiamo molto meglio. Siamo contentissimi. Comunque abbiamo la squadra un po' triamalizzata e abbiamo la testa alla prossima adesso. Una dedica speciale per il migliore in campo e gol? A Daniele Rofrido, il nostro capitano. Grazie.